Mi chiamo Arianna Campagna, ho dieci anni, frequento la quinta elementare, vivo a Ospedaletto e Oganio, in provincia di Padova, con i miei genitori e i miei tre fratelli più grandi. Sono nata in Alto Adige, a Vipiteno, faccio ginnastica artistica, monociclo, rullo. Quest'anno incomincerò a studiare la viola e l'arpa al conservatorio di Rubico. Questo periodo sto facendo la Carmen alla Fenice e mi diverto un sacco. L'anno scorso ho fatto anche Così Fan Tutte, sempre alla Fenice. Il mio sogno è di diventare un'attrice. Io ora farò dieci cambi veloci, un numero di quiz change. Di solito questo numero lo fanno anche i miei tre fratelli, che fanno tre cambi ognuno. E' solo che ora non c'era tempo. Un riadontore, pianelle e postare, un riadontore, pianelle e postare, sotto a stitiera. Ma silence la visione èato non populista. Ma silence la visione è un certo zumore. purria cantare, c'è tanto o pestare purria cantare, c'è tanto o pestare a sta netta, ma si lo sa vissa ma si lo sa vissa per a stai nema, orte afectare, ma par divinità per a stai nema, orte afectare, ma par divinità purria cantare, c'è tanto o pestare purria cantare, c'è tanto o pestare a così bella, ma si lo sa vissa ma si lo sa vissa a quanto è bella, e che a brutta me dal vissa a quanto è bella, e che a brutta me dal vissa Grazie a tutti.